. Uomini e donne oggi, Giulia Latini, le sue parole scatenano la bagarre su Luca Onestini. Uomini e donne oggi, Giulia Latini, le sue ultime parole scatenano la bagarre su Luca Onestini. Tra i misteri irrisolti della faire Luca Onestini e Soleil Sorghe c'era anche quello che coinvolgeva Giulia Latini, le ex corteggiatrice del bolognese a Uomini e donne che nelle ultime ore, con un post criptico, ha scatenato la curiosità dei fan. Ma prima è il caso di fare un passo indietro. Quando scoppiò la coppia dei sorgestini al GFVIP, la Latini finì nel calderone mediatico per uno scambio clandestino di messaggi con l'ex tronista. Sulla vicenda se ne sono dette un po' di tutti i colori. La verità, da quanto emerso e da quanto dichiarato ieri a Verissimo da Luca, che ha confermato la versione della Latini di qualche settimana fa, è che si è trattato di un semplice scambio di battute in tono amichevole. Il GFino ha poi precisato che con l'ex corteggiatrice ci può solo essere amicizia, smorzando il gossip che vedeva un possibile flirt con la ragazza. Nelle ultime ore, un post criptico di Giulia però provocato una discussione sul tema. Andiamo a scoprire tutto. Fai del bene e scordatelo. Questo è il post criptico di Giulia, a cui la ragazza ha fatto seguire un altro commento altrettanto criptico, dopo che una sua seguace le ha scritto come sempre tu tre metri sopra gli altri. Questa l'altra frase della Latini, non mi abbasso ai livelli di nessuno e. O altro a cui pensare fortunatamente. A chi si riferisca l'ex corteggiatrice di uomini e donne non si capisce, ma fatto sta che sotto al commento è partita una bagarre su Luca Onestini. Qualcuno l'ha tirato in ballo, affermando che non si sia del tutto comportato bene con lei e che quindi le debba delle scuse. Altri ne hanno preso le difese, rimarcando il fatto che Averissimo non ha parlato male di bionditudo. Nel frattempo, a chi si riferisse Giulia con quella frase non è dato saperlo. I dietrologisti più spinti pensano proprio a Luca, ma pare improbabile. Uomini e donne oggi, Giulia, Luca e gli aerei. In molti, dopo il naufragio della storia tra Soleil e Onestini hanno pensato che tra l'ex tronista e la Latini ci potesse essere una possibilità. Alcune dichiarazioni della stessa Giulia avevano fatto sognare i fan che erano giunti pure a pensare che gli aerei dispasimanti anonime per Luca al GF fossero mandati da lei. Non era così, come ha chiarito la Latini. Inoltre, a mettere definitivamente in soffitta la questione ci ha pensato ieri il bolognese durante l'intervista a Averissimo.